La moda marchigiana è sempre più verde. Negli ultimi 5 anni il 30% delle 6178 aziende del settore ha investito in prodotti e tecnologie ecocompatibili. Al bando i prodotti chimici nocivi lungo tutta la filiera e grande attenzione alla sicurezza dei processi e dei prodotti, a garanzia della salute dei consumatori. Investimenti che spingono calzature e abbigliamento marchigiani sui mercati esteri. Il 48% delle imprese che ha investito in Green Economy esporta i suoi prodotti, contro il 35% di quelle che non hanno puntato sulla sostenibilità ambientale. Inoltre il 28% delle imprese green della moda ha aumentato il fatturato. Economia sostenibile, tutela del Made in Italy e lotta alla contraffazione, afferma Doriana Marini, presidente di Federmoda CNA Marche. Sono al centro del nostro impegno. In particolare il commercio del falso, oltre a rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori, sottrae all'economia legale della nostra regione più del 10% del mercato, per oltre 300 milioni di euro, di cui la metà riguarda prodotti di abbigliamento, moda ed accessori. Due prodotti contraffatti su terra e provengono dalla Cina. Per il restante terzo i paesi di partenza sono Hong Kong, Turchia, Siria, Grecia, Nepal, Tunisia e Marocco. Nel sistema moda la crisi non è finita. Secondo uno studio di controcotte della Liuk, Università Cattaneo, la capacità produttiva del comparto si manterrà stabile nei prossimi 4 anni per il 50% delle imprese, mentre il 21% prevede un calo della produzione e solo il 4% pensa di aumentarla. Un'impresa su 4 non è in grado di fare previsioni. Dall'indagine risulta che ad aver superato gli anni duri della crisi sono state le aziende che hanno investito in innovazioni di processo e di prodotto e che hanno saputo conquistare i mercati esteri. Nei prossimi anni sarà sempre più importante per le imprese della moda costruire reti di impresa e network progettuali. Inoltre la moda del futuro dovrà essere sempre più attenta alle tematiche ambientali, introducendo in azienda nuove figure professionali come il progettista di prodotti tessili sostenibili ed il responsabile della sicurezza chimica. Infine la sostenibilità ambientale passerà anche dal recupero e riutilizzo dei materiali da riciclo, che andrà sostenuto con incentivi economici per le aziende e con la costituzione di apposite filiere di start-up per il recupero creativo degli scarti.